Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Cards to your friends and family this holiday season. This episode is brought to you by Shopify. That's the sound of switching your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling. Harness the best converting checkout and same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics. used by the world's leading brands. Stop leaving sales on the table. Discover why millions trust Shopify to build, grow, and run their business. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech23. Allora, in questo periodo non ho proprio tutta questa disponibilità di avere un microfono a casa, sono sempre in movimento, sto lavorando a parecchi progetti e quindi praticamente mi ritrovo anche assente di creatività quando torno a casa. Per questo devo cogliere l'attimo, cogliere il momento, perdonate il discorso tecnico e lo dirò in ogni episodio di questi giorni ma insomma la situazione è questa. Però, però, andiamo sui contenuti. Ho notato che stanno uscendo sempre di più queste canzoni fatte con l'intelligenza artificiale. Sì, siamo nel traffico romano, sì, come potete sentire. La vita, la vita di questa città che va e viene, ma ciò che appunto va e viene è anche questo progresso. Allora mi sono domandato, voglio fare una breve riflessione. Progresso l'intelligenza artificiale oppure no? Eh, allora, io sapete cosa penso? Che mo' a parte la fase iniziale non cambierà un emerito cazzo. Perché è vero che magari all'inizio fa impressione roba varia, però il fatto inquietante è che questa roba riesce effettivamente a portare il flow dell'artista. Che sembra quasi che ci sta a mettere il cuore, ma ovviamente il cuore non c'è. Perché? Perché è una macchina. Ora, io non voglio stare qua a fare quello che è no, l'intelligenza artificiale, il mondo della musica, stai distruggendo l'arte. No, perché poi alla fine è la fiera. Non cambia un cazzo. Non cambia un cazzo. Eh, sì, no, sono in macchina con d'amore che mi chiede dove devi andare. Eh, vai dove vuoi. Come vai, vai. Anzi, tu d'amore, che ne pensi dell'intelligenza artificiale? Bah, eh... Beh, una bella domanda, perché qui ormai... Eh, col fatto di queste nuove... Ormai la moda, stanno uscendo tutte cose con l'intelligenza artificiale. No, ma proprio nella musica. Nella musica. Stanno uscendo canzoni. Sì, sì, tipo quella là di Drake con The Weeknd. Che ha fatto mezzo migliore di stream. Che tra l'altro, che tra l'altro, beh, a me piace. Eh, bravo, questo è il problema. Ad amore piace, al pubblico piace. Cioè, io sentivo lì Drake con quel beat che è sempre il... Cioè, lì era, si ripeteva. Certo. Quindi un time beat, no, di quelli... E proprio... Eh, però mi piaceva. Era proprio, io l'ascoltavo. Eppure The Weeknd, che in genere, cioè, mi piace, è un grandissimo, però. Non è che mi faccia impazzire sempre. Lì mi piaceva. Eh, ragazzi, e questo è inquietante. Perché veramente noi possiamo ispirarci agli artisti senza pagare un briciolo di copyright. Prendendoci la voce, fare come ci pare. Però ovviamente devi fare anche un discorso promozionale. Tu credi che questa roba qua dell'intelligenza artificiale in qualche modo possa sostituire, possa integrarsi nel mercato o è solo una fase iniziale? Ma, cioè, il discorso è complesso perché qui ci sono persone, persone diciamo, tra i miliardari ricchi che hanno ripetuto più volte di fermare il progresso perché si stanno raggiungendo delle cose fuori dal normale. Cioè, come leggevo che un robot ha saputo diagnosticare una malattia rarissima ad un paziente e ha fatto la stessa diagnosi che il medico che stava lì, diciamo, insieme al robot, aveva fatto a questa persona 15 anni prima. E questa cosa, questa cosa del robot nella medicina può essere una cosa molto innovativa? Questa sì, infatti secondo me... Il problema forse è nell'arte. Eh, esatto. È nell'arte. Infatti alcune volte penso... Cioè noi ci occupiamo di teatro, andiamo in scena, persone carnali, non ti puoi sbagliare. Tu già sai comunque... Esatto, infatti... Anche nel cinema, no? C'è nel senso... Esatto, infatti è un po' magari per una questione di... magari può... è una cosa che può incidere nella musica o può incidere nella... mi viene la pittura, per esempio. Sì, capisci. Però... È un problema, è un problema. Però in altre forme d'arte, tipo la danza o il teatro, la recitazione, il teatro, lì è complicato perché... Cioè dovresti ricreare... Quindi di conseguenza diciamolo. Si ricreano dei cloni tipo Blade Runner oppure non so come possa... E allora bro, diciamocelo, intervenire. Dobbiamo promuovere le arti, quelle... le arti mobili, gli esseri umani. No, la cosa che mi fa ridere è che... Cioè se tu cerchi un film come Blade Runner, c'è scritto fantascienza, sci-fi... Cazzo, ma invece stiamo raggiungendo proprio quella roba là. Ci stiamo arrivando. Ci stiamo arrivando tra chi ha paura e chi invece è fomentato ed è felice. Io non so dove sia il giusto, dove sia sbagliato. Secondo me nel campo della musica è un fuoco di paglia, eccetera. Ma se il progresso dovesse prendere in mano tutte e gran parte del mercato dovesse spostarsi sulle intelligenze artificiali, adesso scendiamo perché fa un caldo nero in questa macchina d'amore e si sta stionando, ecco credo che sarebbe un grande problema. Perché per forza, a forza di seguire la razionalità, il cervello, stiamo perdendo il cuore. Venite a teatro 3-4 maggio Roma alle due case. Andiamo un attimo a parlare di temi vivi. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi, cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita.